Ho cominciato a scrivere canzoni molto presto, per gioco, tra i banchi di scuola. Questa piazza l'ho frequentata un sacco, Piazza del Gesù, perché ho fatto le scuole medie qui. Qui c'era un maestro e mi disse, no, tu fai troppo casino, non vai bene per la musica, no, no, non venire più. Oddio, questo è Napoli, eh. Ognunque si va, si trova la musica. Napoli è una città che ispira tanto la musica, soprattutto quando la vivi per le strade, quindi la musica, le storie, sono cose che trovi strada. Sono molto legato a un maestro che è Nino D'Angelo, che mi ha veramente insegnato tantissimo, rappresenta secondo me Napoli al 100%. Napoli è una mamma che ti insegna anche a cadere, cioè che ti spinge un po' a farti un po' male per non farti troppo male dopo.